Iscriviti al canale e attiva la campanella per restare sempre aggiornato. La Fiordelisi, dopo aver sbirciato i compiti assegnati dalle Vippone, ha precisato, ovviamente il mio ragazzo non lo fa. Pensi che si bacia tutte? Oriana ha precisato che Antonella era fuori dal gioco, visto che non giochi mai sei l'unica in più adesso. Sei l'unica che litiga con tutta la casa. Fatti due domande. Non mi piace il tuo ragazzo, mi sta simpatico. Gli voglio tanto bene. Pronta la replica di Antonella. Offendi tanto perché è l'unica cosa che sai fare. Non ti agitare. Ti rendi conto di quanto sei invidiosa. Mamma mia schiatta di meno per favore. Che persona, mamma mia. Ma ogni tanto pensi a quello che dici. Ma fatti curare. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.